... Ok, benvenuti a tutti sul canale E oggi proveremo questo gioco, Find Reapers Che non ho capito ma mi ha fatto scrivere due cose e poi sono entrato Non so cos'è, è una preview, è come tutte le preview, non ho mai provato questo gioco Sto raccogliendo roba che non so cosa sia, non posso sparare Credo sia un Battle Royale, qualcosa del genere Però non so neanche i comandi Ti salta, lo space Che vuol dire? Cos'è sta roba? Non Should Spara, no A cosa devo sparare? Alle lattine? Non so, non so capendo Cioè Va bene Ah, le lattine, eccola là No, prendi le lattine forse Ok Ho sparato le lattine, quindi? Ah, quelle lattine Uno, due, tre Sell your items Regola uno Collezione gli oggetti Trovo uno shop e li vendi C'ho la lattina Ok, regola due Fai soldi Per le munizioni Ok Quindi questo qua cosa sarebbe? Numero uno Lattine Che non me le fa prendere Ok, ho fatto tutti questi soldi E quindi Aspetta Ci può abbassare la musica? Audio Oh, grazie Ci voleva Prendo questi E questi qua Ma non Ma quali sono i tasti? Ok, questo è uno shop Credo, no? Ho venduto tutto Ah, sta vendendo così Li vedo a sinistra Li sta vendendo Ok Shoot 4 Ma che se Ma che cos'è? Non lo sta Aspetta Non capisco C'è qualcosa che non mi sfugge Qua si posso entrare? No Non capisco Qua? No Ci sono qua Shoot 3 Ma non so Cioè Spara Ai barattoli Però non so quali barattoli Ah, questo Questo qua Spara ancora E di nuovo Non è questo Ok Poi Questi qua No Forse quello Sì Ok L'ho capito Regola 1 Ok Watertown Ok, numero 1 Ah, c'è il tipo lì Guarda Va, va, va Ok Stai z... Gli ho sparato dalla testa Cos'è successo? The Daily Reaper Ultimamente The Daily Reaper È dead We'll always forget you To do Collect items Vendi Per la sole Eh Vinci tutte le missioni Animini a tutti i Reapers Prova Tu sei il migliore Feed the cat Ok Quindi penso che Qual era il tutorial Penso Non lo so Non è che ci abbia capito tanto Play Missione online Custom tutorial Home Play Become the ultimate Ray player Cos'è? Progressi shop Ah, questi sono i personaggi Tutta tutta Tata Tata C'ho zero soldi Poi Update Questi sono gli ultimi update Progressi Vabbè Vabbè Ehm Intanto si perde il mouse Allora Locker Sì va bene Character 4 Chi è questo? No no Va benissimo questo Voglio Questo Non lo so Diventa l'ultimo play Pre Missioni online Online Trovo un gioco Vediamo Un po' Se c'è un gioco La musica era più bassa Prima Rossi contro blu Tre minuti E andiamo Onestamente io non so cosa fare E quindi ci proverò In tanto raccolgo gli oggetti Io ho trovato C'era una canna lì là Quella è blu come me Ho finito l'ammo R ricarica Caspita ma sono tutti pieni 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 Ho trovato un'altra arma Ok buona Ma non mi fa sparare però R ricarica no C'è un'altra arma qua Due Tre Come si fa A ricaricare l'arma Ah devo trovare forse Ma Eh stavolta muoio io Cioè quelli sono lì A rollare Ottimo Dai che vinciamo va Eh non trovo Lo shop Vado un attimo in giro Piccono Eccolo qua lo shop Ottimo Quindi adesso dovrei avere L'ammo No Come si fa a comprare Ok ce l'ho Ok ce l'ho No adesso che ho Mannaggia Porca la pupazza Va bene Però un kill l'ho fatto Ma è tutto E raccogliere Raccogliere di più Non ho capito Un pallone Una cosa Una football Tutto è vendere L'ananas Quindi tutto è stare al negozio Andare qui e vendere Ah qua non si può sparare Dentro il coso Non si può sparare Dentro lo shop No Oh wow One way Eccolo qua Occhio Perché ti sega quello lì No 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 Nonnozione C'ero quasi Vabbè Cioè avevo il pollo Super pollo venduto Quanto stiamo Noi siamo i blu Cacchio stiamo perdendo Perderemo 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 Adesso che ho capito Meglio com'è la situazione Magnete dragon Ok Va bene Beh Io ho appena iniziato Quindi Cos'è detta sta roba No Gioca di nuovo No Ok Via 3 2 1 No 5 secondi Let's start Match special Trova quell'oggetto E muori Muori di testa Eh Sì imparate Ora devo trovare Lo shop Che io non so dove Eccolo là L'ho trovato lo shop No 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 Va porca la pupazza Peccato Questo c'ha il super fucile Fucilozzo Ma quanti sono Ah si sono messi A camperare Ok Sono tutti là Se riesco a recuperare Gli oggetti suoi Andare a fare A vendere un po' di roba Eh Non possiamo Adesso tu mi aspetti Io lo so che mi aspetti di qua Guardalo 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 Cioè praticamente Invece di uccidere Dobbiamo collezionare Le robe Però conviene Sempre ammazzarli No È difficile Anche evitarli Eh Grande No No Dannazione Ce l'avevo fatta Stavo uccidendo tutti io Cacchio che figata Mi stavamo uccidendo tutti Per la prima volta In vita mia Ero bravo In un gioco Di shooting Ok Sì lo so Lo sto parlando tanto Però sono un po' preso Dal gioco Perché Ha una meccanica divertente Non è brutto Eh Se ti metti qua Eh Non c'ho più niente Da vendere io Ok Missione Finita Finalmente Primo Ah ok Primo è lui Perché io mi concentro A ucciderli Ma questo non si può Skippare così No Ah skip Eccolo qua Grazie Gioca di nuovo Ha il suo perché C'è una nuova mappa Tre minuti Colleziona di tutti Match special Find quello Quindi incominciamo a raccogliere Tutti gli oggetti Sapendo dove Poter trovare Ma che Hanno già ucciso Sono già morto Va bene Ah sono dei pirati Chi è che mi spara Ma quello è il mio amico Che mi spara Ma fai schifo Ecco chi mi ha ammazzato L'amico mio Ma che Ah ma io sono rosso Ah io sono rosso Pensavo fossi blu Ho cambiato squadra Ho cambiato squadra Ma sono Sei mio amico Dai zitto Perché Riesco a prendere quella cosa Non so cosa sia Ma penso sia Fica Ok Ci siamo Io pensavo di essere il blu Rosso è il mio amico Non posso più sparare Eh sì Ero senza vita Va bene Dai però Un po' di kill Li ho fatte Come si fa a vedere Tab No non si possono vedere Pensavo si potessero vedere Un po' di kill Un po' di cose Stai zitta Guarda questo Brutality Mi piace La voce Ma c'è uno blu a destra Io entro E qui non mi potete fare più niente Vendo 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 Ok I rossi sono i migliori Eh Cacchio Brava 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 Oh bravo Ok No c'è qua un cocomero Eh in due vi siete messi Eh ciao No peccato Penso Convinto ancora che ero il blu Convinto ancora che ero il blu Niente Eh è andata così Skip Ok Play again Devo ricordarmi quali sono Blu rosso Ma comunque signori E' divertente Mi sto divertendo Vi lascerò in descrizione Il link di steam Match special Devo trovare la collana Sono un rosso io Ok Ok a destra Quindi raccolgo questi Questo E vado qua Incominciamo a vendere Perché non puoi camperare qua vicino Perché ti finiscono le armi Non fai niente Quindi C'è le munizioni Quindi devi sempre vendere Soldi Oh 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 Attenzione Ci sono oggetti Questo oggetto non l'ho capito a cosa serve Poi lo capiremo Ok Quello è rosso Il mio amico Perfetto Andiamo di qua Ci sono altri oggetti Raccogliamo Nessun blue Se arrivassi solo io A questo tizio qua Secondo me Eh vabbè No Loro stanno vendendo Da qualche altra parte Stanno vendendo Qualcuno sta sparando Ok Eh non riesco a sparargli Dietro il vetro Non succede niente Perché risulta un po' Raccogli raccogli Chi prima arriva No Ok Adesso loro campereranno qua No Ok buono Non c'è il camper Buono Ottimo Eccolo lì Ottimo Andiamo subito a vendere Evita Grande Qua c'è un altro shop vero? Grande Via Proprio in faccia Proprio Ok Ah ci sono Stanno andando Nell'altro shop Cioè qualcuno è morto Eeeh Gli ho sparato in testa Due volte però Quell'arma e il fucile a pompa Non va tanto bene 2004 Però siamo in vantaggio Mission over Ah ok Abbiamo vinto Yeah Red Win Sono quarto però A livello di raccolta E di tutto Bene Signori Io Spero che vi sia piaciuto Spero che avete capito Capito Capiato Perfetto Yeah Spero che avete capito Ok Non riesco più a dire Locked notes Cos'è? Ho lockato qualcosa Bene Spero che avete capito Di più da questo gioco Eeeh Naturalmente Non lascio nessun commento Nessun giudizio Su questo gioco Aspetta a voi Decidere se vi piace Oppure no Lasciate un commento Un like Sono sempre ben accetti E come sempre Se volete supportare Questo canale Un'iscrizione Come sempre Siete mitici Alla prossima Bye bye Io mi faccio altre Due tre partitine CiaoƠi Ciao 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 Ciao